ciao questo è il nostro settimo video e continueremo ancora a parlare del pivot in questo caso parleremo di due punti fondamentali uno sarà la postura e l'altro dove concentrare l'energia nel momento del pivot sia per la parte superiore che inferiore del nostro corpo mi raccomando fate molta attenzione soprattutto ai dettagli buona visione quella che comunmente consideriamo una postura corretta e quando il varicentro si trova alineato con i taloni se cercassimo su un libro qual è la postura corretta molto probabilmente troveremo questa posizione che è quella indicata in rosso però nel ballo del tango quello che facciamo è muovere il bacino in avanti di modo da posizionare il varicentro al di sopra dell'avampiede che sarebbe la postura indicata in bianco questo per noi è la posizione corretta a volte però commettiamo questi errori come inclinare il nostro corpo in avanti con il risultato che gran parte di questo vada fuori asse provocando non solo una perdita dell'equilibrio e un'invasione dell'abbraccio con la testa ma generando anche una tensione nella zona lombare e dei polpacci un altro errore comune è pensare che muovendo il bacino all'indietro avremo più spazio durante il ballo anche in questo caso provocheremo una tensione nella zona lombare nei polpacci ed invadiremo l'abbraccio con la testa adesso che sappiamo qual è la postura corretta è molto importante capire dove concentrare l'energia muscolare e come utilizzarla iniziamo dalla parte inferiore il tacco deve sempre puntare al suolo se alziamo il tacco portando l'energia verso l'alto perderemo la connessione con il suolo e anche l'equilibrio se invece dirigiamo l'energia dal tacco verso il basso verso il suolo questo ci aiuterà a mantenere la postura e ci darà equilibrio e stabilità però questo non significa muovere il varicentro il varicentro continuerà a stare sopra l'avampiede ed il tacco sarà libero per permettermi di fare il pivot ma con l'energia rivolta verso terra ora vediamo come funziona il tutto nel momento del pivot prestiamo attenzione se quando facciamo un passo ed arriviamo all'asse per realizzare un pivot crediamo che portando l'energia del tacco verso l'alto il pivot sarà più facile come si può vedere perderemo l'equilibrio allo stesso modo se alziamo il tacco a metà o al termine del pivot perderemo ancora l'equilibrio quindi l'unico modo di evitarlo è mantenere sempre l'energia del tacco verso il basso adesso vedremo il movimento corretto fate attenzione che nel momento in cui raggiungiamo l'asse l'energia del tacco guarda verso il basso e lo stesso succede a metà del pivot ed ovviamente nella parte finale del movimento nel passo all'indietro in qualsiasi momento prima durante o dopo del pivot se l'energia del tacco va verso l'alto perderemo l'equilibrio nel passo indietro è fondamentale che l'energia del tacco vada verso il suolo spesso confondiamo questo con non mettere il peso nel tacco e non è così il peso si manterrà sempre nella vampiere perché è lì che si trova il varicentro ma l'energia del tacco si dirige verso il suolo chiaramente si può alzare il tacco durante il pivot però se l'energia si dirige verso il basso come si può vedere non è un problema perché è vero che lo sta alzando però il segreto è di sempre dirigere l'energia del tacco verso il basso questo è un caso speciale però è corretto adesso passiamo alla parte superiore ci concentriamo sulla braccia che deve rinascere dalla schiena in modo avvolgente circolare senza farci perdere la postura noi dobbiamo conservare la presa o diafragma verso l'alto in avanti mantenendo il varicentro sopra l'avampiede del piede basse e senza muovere questi due punti molto importanti varicentro e pressa dobbiamo essere in grado di abbracciare io abbraccio il mio partner che si trova davanti a me ma l'energia la dietro quindi intenzione in avanti ma energia dietro perché di là che parte l'abbraccio e anche la marca del pivot e della torsione che sarebbe questa zona fate attenzione questo vale sia per follower e leader se desidero fare un pivot verso destra attivo questa zona muscolare tirando all'indietro e per mezzo del core mi connetto al bacino ed inizio il pivot ora se nel momento del pivot poniamo l'energia nel petto come si può vedere perderemo l'asse e caderemo in avanti e forse lo faremo perdere anche al nostro partner questo ovviamente vale anche per il passo indietro e laterale l'idea è che l'intenzione dell'abbraccio deve essere rivolto in avanti ma l'energia deve rimanere dietro ed è così che faremo un pivot perfetto ed in equilibrio è molto importante abbracciare con intenzionalità in modo avvolgente ma l'energia della marca della torsione della postura rimarrà dietro nella schiena questa è la chiave allora siamo arrivati alla fine di questo video spero di essere stato chiaro che questa informazione vi possa essere utile è molto importante capire la differenza tra intenzione ed energia e perché sia così importante la postura nel bagno del tango mi raccomando praticate ripetete questo video il più possibile e se avete delle domande potete scrivere al tango tutorial chiocciola gmail.com o lo potete fare qui sotto nei commenti grazie mille e ci vediamo nel prossimo video